Ciao amici del Centroverde, oggi voglio parlarvi del nuovo modello di motozappa Honda, la FG320. Motozappa di dimensioni compatte, ma molto potente e affidabile. Il motore scelto da Honda per la FG320 è il modello GP160 a quattro tempi, che eroga 5 cavalli di potenza a 2800G. Particolarmente facile da avviare, poco rumorosa e attento dei consumi, il GP160 sarà in grado di soddisfarvi anche nelle sfide più impegnative chiedendovi poca manutenzione. Con la FG320 Honda segna una rivoluzione nel mercato. Per la prima volta la casa giapponese propone una motozappa compatta e dotata di retromarcia a un prezzo molto accattivante. Semplice da utilizzare, leggera e compatta, questa motozappa è ideale per tutti coloro che vogliono una piccola macchina per la cura del proprio orto e giardino, ma non vogliono rinunciare alla sicurezza, al comfort e all'affidabilità che solo un prodotto Honda può garantire. La FG320 è affidabile, semplice e sicura. Fresare il terreno, anche duro, diventa facile e la garanzia è di un lavoro ben fatto, grazie alla marcia avanti e la retromarcia delle quali è dotata la nostra F320. Di dimensioni compatte risulta ideale per fresare anche nei piccoli spazi. La fresa in dotazione a tre elementi è di 80 cm, può però diventare 60 o 35 cm per adattarsi alle varie esigenze culturali. La FG320 è dotata di innesto attivo, la leva presente sul manubrio infatti avvia la rotazione delle frese. Quando questa viene disattivata le zappe si fermano immediatamente ma il motore rimane in moto. I dischi laterali in dotazione con la fresa possono non essere utilizzati quando si frese un terrone duro che non è mai stato lavorato. In terreni più soffici i dischi laterali diventano molto utili favorendo il mantenimento della direzione, l'avanzamento e proteggono le culture limitrofe dalla lavorazione. La FG320 viene fornita di uno sperone che determina la profondità di lavoro. Quando lo sperone è regolato basso le zappe affondano maggiormente nel terreno, mentre con lo sperone regolato in alto il baricentro si sposta in avanti e la macchina tenderà quindi ad avanzare più rapidamente. L'utilizzo dei dischi laterali e dello sperone alto aumentano il galleggiamento e l'avanzamento. La FG320 è veloce, stabile e precisa. La trasmissione bilanciata e robusta è studiata per durare nel tempo. La stegola è regolabile lateralmente, una dotazione indispensabile quando non si vuole calpestare il terreno lavorato se si sta fresando vicino a siepi, recinzioni o sotto i rami. Il manubrio regolabile in altezza incontrerà le esigenze di tutti gli utilizzatori e si troverà sempre la giusta posizione per tutte le profondità di lavoro. Inoltre la regolazione più bassa è utile per trasportare FG320 sulla ruota di trasferimento anteriore di serie. Pulizia e manutenzione sono semplicissime, è sufficiente controllare periodicamente il livello olio motore ed eseguire la pulizia del filtro. Il cambio non necessita di alcuna manutenzione. FG320, come tutti i prodotti Honda, è progettata e costruita per durare e mantenere il suo valore nel tempo. Per informazioni su questo prodotto clicca sul link in descrizione, collegati al nostro sito internet, metti mi piace sulla nostra pagina facebook e iscriviti al nostro canale youtube.